In Parlamento oggi si vota la fiducia posta dal Governo sul decreto delle commissioni bancarie. Proseguono invece i lavori per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici. Sebbene lunedì in aula l'avvio della discussione sulle norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti, nonché sulle misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi, le presenze sono state pochissime. Un episodio che non fa notizia quanto quello dell'allarme dato a Montecitorio e Vigili del Fuoco per un sospetto di incendio, probabilmente a causa di una sigaretta non spenta gettata nel cestino della carta. Tuttavia sono state illustrate in aula alcune modifiche al testo che prevede un taglio drastico dei contributi del 50%, passando così a 91 milioni di euro all'anno dai relatori Gian Claudio Bressa del PD e Giuseppe Calderisi del PDL. E tra queste la detrazione fiscale del 27% per chi effettuerà donazioni a partiti e ONLUS. Un emendamento messo a punto dai relatori stessi ammorbidirà invece il vincolo che prevede che i fondi pubblici vadano solo ai partiti che abbiano almeno un eletto in Parlamento, al Parlamento europeo o al Consiglio regionale. Resta la condizione dell'eletto per accedere al 70% dei finanziamenti pubblici, mentre per quanto riguarda il cofinanziamento, ossia il 30% che arriverà dalle erogazioni dei privati, basterà raggiungere la quota del 2% dei voti validi anche senza eletto. E mentre l'On. Di Pietro, fuori Palazzo Montecitorio, raccoglie 200.000 firme a sostegno di una legge di iniziativa popolare per l'abrogazione del finanziamento pubblico, alla seduta presieduta da Maurizio Lupi, l'On. Barbato, che ha svelato con la sua telecamera le insidie nascoste ai piani alti di Montecitorio, si autosospende da deputato. In seguito all'apparizione del suo nome in un'inchiesta della Procura di Napoli, in cui risulta che avrebbe richiesto 20.000 euro per aiutare l'imprenditore Viscione nel tentativo di salvare la sua società. Io, signor Presidente, intendo essere un deputato d'olore, un deputato che svolge il proprio lavoro con l'olore.